Quali sono le novità più importanti presentate all'ESMO, il congresso della Società Europea di Oncologia Medica che si è chiuso da poco a Barcellona per la terapia del tumore del rene e del tumore della vescica? Ne parliamo con due esperti dell'Istituto dei Tumori di Milano, il dottor Giuseppe Procopio e il dottor Andrea Necchi. Dottor Procopio, quali sono le novità più interessanti e i messaggi chiave che sono emersi da questo congresso ESMO appena concluso a Barcellona per quanto riguarda il trattamento del tumore del rene? Allora farei tre considerazioni partendo tra tre diverse analisi. La prima è l'adiuvante, uno studio importante che era partito oltre dieci anni fa ha ulteriormente ribadito che l'inibitore dell'angiogenesi anche nei pazienti ad alto rischio di recidiva non è utile ai fini della riduzione del rischio di recidiva e quindi dell'aumento della speranza di vita e della guarigione dei pazienti. Quindi la terapia adiuvanta alla nefrectomia al momento rimane oggetto di sperimentazione con le immunoterapie ma non è pratica clinica. La seconda considerazione, le combinazioni terapeutiche. Sappiamo che oggi le combinazioni tra due agenti immunoterapici e una combinazione tra immunoterapia e un agente biologico costituiscono l'approccio più vantaggioso da vari punti di vista per la malattia metastatica. C'è uno studio molto interessante che è stato presentato almeno in termini proprio di prospettiva in base a quello che è il disegno molto innovativo che fondamentalmente ci ha detto che nivolumab e limumab nello specifico è un'ottima combinazione terapeutica ma che anche dopo fallimento ad esempio al nivolumab all'aggiunta dell'ipilimumab almeno in alcuni gruppi di pazienti può essere vantaggioso. Questo sembra dare valore ulteriore a quello che lo studio checkmate registrativo di questa combinazione nell'ottica di validazione di entrambe le opzioni di cura. Cioè il nivolumab è un farmaco standard in seconda linea ma la combinazione può essere specificatamente vantaggiosa in alcune tipologie di pazienti quelli ad alto intermedio rischio ma l'aggiunta dell'ipilimumab può essere vantaggiosa in termini di aumento dell'efficacia terapeutica. E la terza considerazione quella forse più importante la personalizzazione della terapia almeno su base di indicatori molecolari ancora è una chimera nel tumore del rene. Ci sono dei graduali passi in avanti che fondamentalmente non potranno prescindere dalla ricaratterizzazione del tumore alla diagnosi, all'evidenza di metastasi, alla evidenza di progressione perché l'eterogeneità tumolare e il fenotipo dinamico comportano la necessità di acquisire nel tempo i cambiamenti che poi potranno portare all'acquisizione di informazioni utili ai fini di una strategia di terapia. Dottor Necchi, quindi quali sono gli studi più importanti che sono stati presentati a Barcellona, al Congresso ESMO, per quanto riguarda il trattamento del tumore della vescica? Dunque, gli studi principali presentati nell'ambito dei tumori della vescica sono tre. Il primo è più importante, lo studio di fase 3 in Vigor 130, che è un grande studio di fase 3 che ha confrontato l'utilizzo dell'immunoterapia in prima linea nei pazienti con malattia metastatica, quindi a tezolizumab, associato alla chemoterapia oppure da solo verso, confrontato con la chemoterapia. I risultati hanno mostrato per la prima volta in questa malattia un incremento del tempo di progressione di malattia e dei dati preliminari che tendono a un vantaggio di sopravvivenza, sebbene questa non sia ancora stata raggiunta dal punto di vista statistico, non sia ancora statisticamente significativa, si dice, per cui c'è bisogno sicuramente di un maggior tempo di osservazione. E questo studio sicuramente può, come dire, sancire l'avvento di un nuovo standard di cura che prevederebbe l'utilizzo dell'immunoterapia in combinazione con la chemoterapia in questi pazienti già alla diagnosi di malattia avanzata. Il secondo studio, altrettanto importante secondo me, è lo studio che ha associato in prima linea dei pazienti con malattia avanzata, quindi malattia metastatica, tumore della vescica, non elegibili al trattamento con cisplatino, che rappresentano circa la metà dei pazienti che hanno una diagnosi di questo tipo. Un trattamento, una combinazione di terapia che non prevede la chemoterapia, in particolare una combinazione che prevede l'utilizzo dell'immunoterapia con un farmaco che si chiama pembrolizumab associato a un nuovo farmaco che è un anticorpo coniugato con una tossina, coniugato sostanzialmente con la chemoterapia, che si chiama infortumab vedotin. I risultati su una prima corte molto preliminare di pazienti, di 45 pazienti, sono molto incoraggianti. Le risposte sono più del 70%, risposte obiettive, riduzione del tumore e questo sicuramente può essere il primo passo per un potenziale nuovo standard di cura, se ovviamente validato in studi confermativi di confronto nel futuro, che non prevede addirittura l'utilizzo della chemoterapia. L'ultimo studio è uno studio cosiddetto BIS-K, che è uno studio condotto prevalentemente in Inghilterra, ed è uno studio che ha valutato l'utilizzo dei target terapie, quindi terapie a bersaglio molecolare, in pazienti molecolarmente selezionati in base ad alcune alterazioni di geni, associate all'immunoterapia. Il messaggio globale di questo studio molto complicato dal punto di vista del disegno e dell'ipotesi statistica è comunque che rispetto alla sola immunoterapia l'utilizzo di altre farmaci in aggiunta ad essa in pazienti selezionati molecolarmente, i pazienti che avevano mediamente già fallito una o più linee di chemoterapia, sempre per malattia avanzata, non ha dato dei segnali particolarmente significativi in termini di riduzione del tumore, in termini di risposte, come a dire che ancora oggi l'utilizzo di terapie a bersaglio molecolare pure in pazienti selezionati in questa malattia deve essere ancora soggetto ad attenta valutazione.